Grazie Presidente. La mobilitazione contro i viri attacchi alla sede della CGL ha mandato un messaggio molto chiaro all'Europa intera, all'Italia, agli anticorpi per difendersi dal virus fascista. Certo è vero, c'è chi insegue alcune minoranze, no vax, no pas, c'è chi soffia sul malcontento, c'è chi è incredibile, dà ancora residenza politica a gente che nel ventunesimo secolo pensa di fare politica con il braccio destro teso, che attacca gli ebrei, che attacca i migranti, che attacca le libertà sessuali. Ecco perché, onorevole Fitto, è essenziale che tutte le forze parlamentari, anche all'estrema destra, come il suo gruppo, taglino completamente i ponti con i violenti senza ambiguità. Noi aspettiamo parole chiare, aspettiamo anche atti convincenti, lo dico in particolare al gruppo ICR e al gruppo ID, e secondo me anche oggi avete perso una cosa importante. Avete perso una cosa importante perché anziché attaccare il vero problema di questo continente, che non è il fascismo, ma è il nazionalismo e il populismo, avete attaccato la Commissione europea. Straordinario! E questa è la divisione, secondo me, profonda, al di là dei dibatti sulla storia, che non mi interessano, non credo che sia un pericolo fascista, non credo che ci siano dei partiti fascisti, né in Italia né altrove. La differenza però tra noi e voi, quando si parla di estremismo, è che noi riteniamo che l'Unione europea debba agire per lo Stato di diritto, debba agire per le libertà fondamentali, che quando facciamo i dibatti sullo Stato di diritto non sia un'indebita ingerenta nella sovranità di uno Stato membro. Voi invece pensate che la sovranità sia assoluta, talmente assoluta che in modo assoluto può anche comprimere libertà fondamentale e lo Stato di diritto. Se c'è un dibattito vero, per cui anche questo dibattito di oggi è utile, è marcare le differenze e credo che noi dovremmo continuare a batterci per lo Stato di diritto e libertà fondamentali in tutto il nostro continente. Grazie Presidente. Grazie. Grazie.